Allora innanzitutto volevo salutare Giovanni Ciardi che purtroppo non è qui con noi ma ci segue via streaming, quindi un saluto a lui. La presentazione è una presentazione che porterà praticamente un excursus su quelli che sono i link ed open data e poi la soluzione che Planetech Italia insieme a Synergies ha progettato e sviluppato per la regione Emilia Romagna nell'ambito di un progetto di evoluzioni dell'infrastruttura dati territoriale della regione Emilia Romagna. Però volevo seguire la classica presentazione però ho pensato partiamo dalla fine della presentazione che è una demo interattiva, un piccolo mashup che abbiamo realizzato per far vedere quelle che sono le potenzialità dei link ed open data. Perché una domanda che mi sono sempre sentito nell'ultimo periodo è ma io con questo RDF che cosa ci faccio? Cioè posso tranquillamente avere lo shapefile e posso fare tutte le analisi che voglio? L'RDF non lo riesco a masticare, non lo riesco a far usare al mio client GIS. Quindi partendo da questa domanda noi abbiamo pensato di realizzare un piccolo mashup che integrasse praticamente all'interno delle API del geoportale della regione Emilia Romagna dati provenienti da fonti diverse, dati in RDF in questo caso provenienti da fonti diverse e non solo anche delle cosiddette interrogazioni agli end point Sparkle di cui è già stato parlato questa mattina e quindi far vedere come in un'interfaccia web è possibile visualizzare i dati e legarli tra di loro. Questo è un piccolo esempio in cui, non so quanto si veda bene su mappa, sono presenti sulla destra, è presente la cartografia della regione Emilia Romagna con una serie di icone che rappresentano gli eventi sempre provenienti dalle API del portale cultura degli eventi della regione Emilia Romagna in cui interrogando il tutto, quindi basandosi su API della regione Emilia Romagna per gli eventi, RDF dei toponimi civici ed edifici realizzati praticamente nell'ambito del progetto evolutivo sempre dalla regione Emilia Romagna quindi come è possibile interrogando ad esempio un evento, in questo caso il concerto che si terrà a Bologna il 4 marzo in memoria di Lucio Dalla, è possibile localizzare l'evento e avere tutti gli RDF che sono in qualche maniera legati a quell'evento effettuando una semplice query geografica all'interno dell'endpoint Sparkle e quindi avere poi cliccando sull'edificio l'informazione RDF dell'edificio, quindi con tutte le varie informazioni che compongono le RDF o cliccando sulla i informativa avere il metadato dell'edificio perché la soluzione realizzata per l'Emilia Romagna che si chiama Getload aveva il compito di sviluppare e rendere fruibili come RDF non soltanto i dati ma anche i metadati della regione Emilia Romagna quindi io posso tranquillamente navigare l'evento o anche navigare semplicemente, interrogare l'edificio quindi in questo caso interrogo l'edificio e mi porto dietro tutti quanti i dataset collegati all'edificio quindi ho l'informazione sul civico, ho l'informazione sull'edificio stesso e tra poco arriverà anche l'informazione sul toponimo quindi il tutto, ripeto, interrogando non i servizi standard OGC dell'Emilia Romagna non facendo degli identify ma interrogando l'endpoint Sparkle questo ha il vantaggio di non dover conoscere effettivamente il dato come è strutturato, come è fatto ma semplicemente basta fare una query SQL di tipo geografico e la risposta di questa query SQL è una serie di informazioni poi io posso, pensate quindi il tutto è stato fatto con i dati dell'Emilia Romagna è un piccolo mashup, ma laddove ci fossero altri dataset o altri endpoints Sparkle a disposizione il tutto si potrebbe ampliare ed estendere anche agli altri dataset quindi io potrei fare praticamente, navigare i singoli dataset semplicemente localizzando un punto e poi effettuando dei collegamenti tra i vari load tra i vari linked open data che hanno degli identificatori univoci e quindi che mi permettono di switchare da un dataset all'altro ora, fatto vedere questo esempio, torniamo alla presentazione la presentazione sui dati geografici liberi della regione Emilia Romagna allora, abbiamo un excursus quindi su linked open data poi parleremo della soluzione open geodata e poi, come vi ho anticipato, era una piccola demo interattiva per vedere effettivamente come è possibile collegare dataset differenti i dati, se isolati, hanno poco valore quindi il valore dei dati aumenta effettivamente laddove io sono in grado di incrociare questi dati e relazionare questi dati questa è una fonte del sito linked open data.it quindi il fatto di generare dei dataset in formato RDF accresce sicuramente il valore del dato quindi dove non dobbiamo fermarci alla quarta stella dell'RDF ma spingerci fino alla quinta stella di Tim Berners-Lee in cui creare praticamente rete, reti di dataset i linked open data permettono, grazie a questa relazione tra fonti dati differenti di creare un'applicazione sopra quello che è conosciuto come il modello concettuale esplicito quindi un'integrazione che viene fatta a livello di dati un'integrazione che può essere fatta come nell'esempio che vi ho fatto vedere prima andando a interrogare degli end point Sparkle differenti o integrando anche fonti dati differenti perché nell'esempio di prima abbiamo visto un evento un evento che non è un RDF però aveva delle coordinate grazie a quelle coordinate noi abbiamo realizzato questo mashup che ha utilizzato quelle coordinate per andare a interrogare nell'end point Sparkle per avere tutti i dataset che erano vicino a quelle coordinate ecco perché mi venivano restituiti anche gli edifici i toponimi e i numeri civici immaginate la stessa cosa cioè legandola a fonti dati differenti una cosa importante nel realizzare i linked open data è sicuramente il concetto di ontologie perché un linked open data non ha senso se non esiste un'ontologia collegata un'ontologia che ha il compito proprio di organizzare il dominio è di superare quelli che sono i limiti dei RDF e anche andare a definire a delineare meglio le strade che collegano gli oggetti quindi laddove non esiste un'ontologia a cui fare riferimento molto probabilmente non ha senso cioè parlare di linked open data la soluzione Getload è una soluzione che come dicevo è stata progettata e sviluppata nell'ambito di un progetto di sviluppo evolutivo della regione Emilia-Romagna insieme da noi di Planetech e colleghi di Synergies aveva proprio il compito di rendere disponibili come open data i dati e i metadati gestiti dall'infrastruttura dei dati territoriali della regione Emilia-Romagna la soluzione è una soluzione open e riusabile quindi soluzione open source potrà essere riusata anche da tutte le pubbliche amministrazioni che si dovessero trovare nella situazione di voler realizzare degli open data o dei linked open data perché una cosa che non ho detto è che la soluzione Getload oltre a consentire di pubblicare i dati in formato RDF consente anche di fermarsi alla cosiddetta terza stella di Tim Berners-Lee quindi allo shapefile il tutto integrandosi all'IDT regionale quindi sfruttando quelli che sono i servizi di una tipica IDT, i servizi OGC, VFS e CSW qua vediamo un workflow funzionale della soluzione open geodata Getload quindi in cui è possibile generare open data e generare linked open data alla fine la soluzione è una soluzione modulare abbiamo visto prima la componente RDF browser di Getload ma Getload ha anche una componente di servizi che può essere integrata in qualsiasi in qualsiasi infrastruttura dati territoriali quindi può essere richiamata da qualsiasi punto della propria infrastruttura l'importante è avere praticamente un servizio di catalogo e un servizio VFS per il download dei dati a cui Getload si poggia e Getload può creare sia open data che linked open data Nello studio di Getload abbiamo seguito quelle che sono le linee guida per l'interoperabilità semantica dell'agenzia per l'Italia digitale a cui faccio i complimenti per il lavoro che hanno fatto quindi è un lavoro veramente grandioso per quanto mi riguarda e quindi so che è un lavoro che ha ricevuto tanti riconoscimenti quindi non soltanto in Italia ma anche all'estero quindi quando qui c'è scritto Getload è una soluzione che implementa non è parzialmente corretta è vero, cioè veritiero nel senso che la soluzione segue l'intero Load Live Sequel quindi ma le operazioni di individuazione selezione dei dataset la bonifica, l'analisi e modellazione sono tutte attività che non devono essere effettuate in maniera meramente automatica ma hanno anche una componente umana cioè nella individuazione e selezione dei dataset nella validazione ci sono dei tool che aiutano quindi però la componente umana è una componente sicuramente da non sottovalutare brevemente così si presenta invece l'interfaccia di amministrazione di Getload non so quanto si veda comunque c'è una parte di elenco dei processi ed elenco configurazioni in cui semplicemente si dice l'amministratore dice qual è l'url del VFS qual è l'url del CSW se vuole generare un link ed open data e in più se vuole generare un link ed open data di una sola provincia di un solo comune quindi limitare la generazione del link ed open data quindi riepilogando e ho concluso quindi poi abbiamo visto la soluzione il modulo RDF browser di Getload che integra le GR API che sono un'estensione di open layers della regione Emilia-Romagna integra gli RDF degli edifici toponimi stradali e numeri civici gli eventi delle culturali dell'Emilia-Romagna integrati richiamando le API e poi effettua praticamente delle chiamate all'endpoint Sparkle grazie 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 a tutti.